Per vendere online devo essere credibile e per essere credibile devo dare dimostrazione concreta di quello che so fare. Non è così tanto importante preoccuparsi da subito di come fare a convertire i propri lettori in clienti paganti, ma è molto più importante preoccuparsi da subito di trovare modi e maniere per poter dare dimostrazione concreta delle nostre competenze e abilità in un certo settore. È ok conversare, creare relazioni, condividere informazioni, risorse e notizie, ma un conto è creare relazioni, altro conto è dimostrare di essere competenti, affidabili su qualcosa. Per cui va benissimo produrre un sacco di contenuti se questo è quello che ti dà piacere, ma ricordati che per far sì che io non solo mi interessi, ma prenda in seria considerazione di poter acquistare uno dei servizi o dei prodotti che tu promuovi, ciò che mi convince di più insieme al parere delle persone che lo hanno già acquistato è il vedere te che mi dai dimostrazione concreta che il tuo prodotto è in grado di risolvere il problema, dimostramelo, dimostrami che le tue competenze, le tue conoscenze fanno la differenza. Non me ne parlare, dammene dimostrazione concreta.